La settimana prossima saranno segnati i premi Nobel e c'è particolare attenzione a quello per la letteratura che dovrebbe essere annunciato giovedì 9. Molti nomi che ricorrono, alcuni scontatissimi, un favorito Murakami Aruki e un outsider che in ambienti ben informati viene data vicinissima alla conquista del premio. Si tratta della bielorussa svetlana Alexievich. Secondo queste fonti la Alexievich potrebbe essere scelta dal comitato di Stoccolma anche per mandare un segnale al Cremlino, mentre la crisi ucraina continua a monopolizzare l'attenzione della comunità internazionale. Gli altri nomi sono i soliti Philip Roth, Thomas Pinchon, Cormac McCarthy e tra gli italiani Umberto Eco, Dacia Maraini e Claudio Magris.